Tumori il senatore Castiello, situazione preoccupante a sud di Salerno. Dati allarmanti, necessario intervenire subito. Roma, la BCC di Buonabitacolo, all'Assemblea dell'ABI, si è parlato di Europa, ma anche di contenimento dei costi. Sapri al via la ricognizione del territorio contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, il sindaco annuncia pugno duro. Sala Consilina, ai piedi dei Monti della Maddalena, nasce il Pettirosso. Ivan Bruno raccoglie le essenze delle piante per la cosmesi interamente naturale. Sala Consilina, rincarotasi, riunione accesa dei commercianti di Assocom. Il presidente Giordano, stiamo vagliando varie ipotesi per affrontare la questione. Buongiorno e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Uno News. Il senatore Francesco Castiello scrive ai ministri Costa e Grillo, rispettivamente alla guida dei ministeri dell'ambiente e della salute, affinché siano avviate così nuove indagini per scoprire le ragioni dell'alta percentuale di patologie tumorali nelle aree del Cilento e del Vallo di Diano. Per Castiello si tratta di numeri inspiegabili per un territorio che non ha insediamenti industriali con attività pericolose e denuncia un possibile sversamento di rifiuti pericolosi. Sentiamo. Il senatore Francesco Castiello del Movimento 5 Stelle lancia l'allarme sulla diffusione dei tumori nel Cilento e Vallo di Diano presentando un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al ministro della Sanità Giulia Grillo. Una situazione preoccupante per il senatore Castiello per l'incidenza sulla popolazione che supera i picchi della media nazionale considerando che le aree in questione sono carenti di attività produttive considerate rischiose per l'insorgenza di malattie oncologiche. Nella sua interrogazione Castiello analizza i dati e parla di indizi che lascerebbero pensare ad un illecito occultamento di rifiuti pericolosi che a parere del senatore Pentastellato potrebbe essere accaduto in occasione della realizzazione di opere pubbliche oltre ad un attacco al materiale delle condutture di acqua potabile. In occasione dell'esecuzione di lavori pubblici e opere pubbliche, scrive Castiello, possono essere stati illecitamente occultati i rifiuti pericolosi che hanno vulnerato l'ambiente. Le condotte adottrici dell'acqua potabile poi sono ancora costituite da tubazioni in amianto le cui fibre diluendosi favoriscono l'insorgenza di malattie oncologiche. Da qui l'interrogazione ai ministri Costa e Grillo affinché si possa far luce su quanto sta accadendo. Dopo anni di silenzio e di mancate azioni di prevenzione, scrive Francesco Castiello, è giunto il momento di far luce su questa drammatica situazione che affligge i nostri territori. Tra i commenti al post, anche quello di Gerardo Antelmo, che lo considera falso e dannoso, ritenendo una bufala all'alta incidenza delle patologie tumorali. In tanti attaccano Antelmo, mentre il senatore Castiello, dati alla mano, replica duramente all'interlocutore che tenta di negare la diffusione del cancro. In questo contesto il negazionismo non premia, scrive il senatore, mentre per le negazioni di sua moglie, ricercatrice a Baltimora, condite da risate di schierno, è sufficiente osservare che la tragedia di chi ha subito la morte di tumore tra parenti e amici impone che il problema sia affrontato con umiltà e rispetto del dolore altrui. Le risate di sua moglie da oltreoceano, conclude Duro Castiello, suonano sinistre e fuori luogo. Si può accettare il dissenso, ma non lo scherno, soprattutto se migliaia di famiglie hanno vissuto e vivono nel dolore. Il sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, ha nominato il vice sindaco Francesco Manzolillo quale delegato e rappresentante del Comune di Atena Lucana all'Assemblea del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, ambito S10, che si riunirà giovedì 12 luglio alle ore 18 nell'Aula Consigliare del Comune di Atena Lucana. In merito alla gestione e alla organizzazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, ambito S10, dicono dall'amministrazione di Atena Lucana, si auspica il pieno rispetto dello statuto, il rispetto poi della parità di genere nella composizione degli organi di rappresentanza e più in generale desidera che venga posto in essere un metodo di governo scevro dalle logiche di partito e più incline a modalità collegiali. Quadro disarmante invece del rapporto di legambiente sulle eco-mafie. In Campania si supera 14% dei reati, circa 1.000 le infrazioni a Salerno e provincia. Sentiamo Giuseppio Promolla. Un reato ogni due ore, 12 al giorno, più di 4.300 reati accertati di illegalità ambientale, il 14,6% del totale nazionale, con 4.471 persone denunciate, 19 arrestate e 1.342 sequestri. Il quadro disegnato dalla dossier eco-mafie di Legambiente che consegna la maglia nera alla Campania, un affare, quello delle eco-mafie che nella nostra regione è gestito da 86 clan criminali. Ma, come dichiarato dal presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, la criminalità organizzata, lo abbiamo scritto sin dal primo rapporto, non è comunque unica attrice protagonista dell'aggressione ambientale. Il palcoscenico, infatti, è stato sempre affollato da una vera e propria imprenditoria eco-criminale che si avvale di professionisti e funzionari pubblici corrotti, colletti bianchi, banchieri, uomini politici e istituzioni. Scendendo nel dettaglio del dossier e analizzando le singole province, si vede come quella di Napoli sia la prima in Italia con 1.351 infrazioni, quarto posto per la provincia di Salerno con 974 infrazioni, seguita da Avellino con 856. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, poi in Campania sono stati accertati il più alto numero di reati, 1.351 infrazioni, di cui solo 85 tra Salerno e provincia. Non sembra subire inoltre flessioni le costruzioni abusive in ambito edile con oltre 3.000 infrazioni, di cui 108 tra Salerno e provincia. Altra nota dolente, gli incendi, con l'ennesimo primato campano che ha fatto registrare più di 500 incendi rispetto allo scorso anno. L'obiettivo, ha commentato Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, è sempre lo stesso, privatizzare i beni comuni per fare affari, violando ogni legge e principio di buonsenso. Quelli di questo nuovo rapporto ecomafia sono numeri densi di significato, rappresentano comunque un segnale forte nel paese, nel suo storico ventre molle la tutela dell'ambiente, per dire che non è tempo di abbassare la guardia, anzi, che serve più che mai rilanciare l'attività di contrasto e di prevenzione prima che sia troppo tardi. In palio non c'è solo la sopravvivenza degli ecosistemi, ma di buona fetta delle economie e di capacità produttiva della nostra regione, che ha intrapreso lentamente la strada lungo i sentieri della sostenibilità e della responsabilità sociale. La campania sostenibile, conclude Maria Teresa Imparato, con le sue eccellenze può assumere un ruolo da protagonista per il rilancio della nostra economia, sotto il segno dell'efficienza, dell'innovazione e della sostenibilità. Questa mattina il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca e il presidente Pasquale Gentile, sono stati impegnati a Roma per l'Assemblea dell'ABI. A parlare del futuro delle banche e delle necessità per potenziare l'economia, anche il ministro Tria e il governatore della Banca d'Italia, Visco. Sentiamo. La BCC di Buonabitacolo è il direttore generale Angelo De Luca, oggi a Roma, al Palazzo dei Congressi dell'EUR, per l'Assemblea dell'ABI. Un'occasione fondamentale per fare il punto sull'Italia, sull'impegno delle banche e sull'Europa, alla presenza di rappresentanti istituzionali e politici, di banchieri e di imprenditori. Ad aprire i lavori, il presidente Antonio Patuelli, a seguire gli interventi del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Soddisfatto dei contenuti riportati all'Assemblea, il direttore della BCC di Buonabitacolo De Luca, che ha evidenziato come nonostante la crisi bancaria sia costata 12 miliardi per i salvataggi, la tenuta del sistema è stata garantita da 70 miliardi di aumenti di capitale e continui prudenziali accantonamenti. Numeri importanti, quelli riportati dal presidente Patuelli, ha commentato il direttore Angelo De Luca, che però ha messo in guardia dai rischi strategici dell'Italia dal non partecipare maggiormente all'Unione Europea, scelta che potrebbe porci nei meandri inesplorati di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quello sudamericano. Presente a Roma anche il presidente della BCC di Buonabitacolo, Pasquale Gentile. Noi siamo convinti come l'ABI, riferisce Gentile, che c'è bisogno di più Europa, ma con regole uguali per tutti. Siamo sostenitori dell'Unione Europea e dell'Unione Bancaria, ma occorre una nuova spinta con testi unici di diritto bancario, finanziario, fallimentare e penale dell'economia e con coerenza fra regole contabili e prudenziali. Un pensiero che coincide con quanto sostenuto da Patuelli, che nel suo intervento all'Assemblea ha anche parlato degli sportelli bancari ridotti di circa 27.000 nel 2017. I canali distributivi, ha sottolineato nel suo intervento, sono sempre più concorrenti per le libere e responsabili scelte di risparmiatori e investitori. In questo contesto, secondo quanto emerso durante l'Assemblea, vi è un importante accordo con i sindacati nel comune obiettivo di definire insieme percorsi delle ristrutturazioni basate sempre su scelte volontarie, rifiutando l'indifferenza sociale. Scelte che hanno trovato pronta la BCC di Buonabitacolo, che ha intrapreso da tempo il percorso della sobrietà di spesa e di contenimento dei costi, garantendo solidità e futuro alla storica banca di credito cooperativo, prima ad operare nel Vallo di Diano. E dal sindaco di Sapri, Antonio Gentile, arriva l'annuncio di un inasprimento contro le azioni a danno dell'ambiente per fermare l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Polizia Municipale ha lavoro per individuare gli eventuali incivili. Sentiamo il servizio. Alviera Task Force per fermare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Sapri, dove l'amministrazione comunale ha dato il via ad una ricognizione del territorio con una lunga serie di interventi finalizzati a ripulire l'ambiente dai rifiuti. Nel contempo arriva anche il duro attacco del sindaco Antonio Gentile, che parla di inciviltà dei cittadini e di assenza di rispetto per l'ambiente, sottolineando come la questione telecamere sia marginale rispetto alla totale assenza di senso civico dei cittadini. In questi giorni gli agenti della Polizia Municipale di Sapri hanno avviato controlli intensi e ferrei per individuare gli incivili che abbandonano sul territorio comunale i rifiuti. Non è un problema di telecamere o controlli, ma di civiltà, sottolinea amareggiato il primo cittadino Saprese nel parlare dell'intensificazione dei controlli sui rifiuti. Partire da caso dalla propria attività con l'intento di abbandonare i rifiuti, rischiando di essere sanzionati e denunciati, non ha alcuna razio. Abbiamo un servizio di raccolta differenziata porta a porta avanzato, isole ecologiche itineranti, raccolta di ingombranti su prenotazione, servizi dedicati per le attività e ancora esistono delinquenti che continuano a disseminare le loro schifezze in giro. Vogliamo vivere in un posto pulito, continua Gentile. Nessuno ha il diritto di deturpare l'ambiente e minare la salubrità dei luoghi pubblici. Le leggi ci sono, scrive ancora il primo cittadino Saprese annunciando pugno duro, e le pene saranno esemplari. Serve la collaborazione di tutti, una dimostrazione d'amore per l'ambiente. Invito quindi tutti a segnalare condotte sanzionabili per far sì che non si riveli una battaglia contro i mulini a vento. Utilizzerò tutti gli strumenti previsti dalla legge per arginare la problematica abbandono dei rifiuti e non corretta utilizzazione del servizio di raccolta differenziata. Oggi ha chiesto agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti per l'adozione del DASP urbano previsto dal decreto Minniti. Il sindaco di Sapri si dice anche pronto a congedere un simbolico riconoscimento a chi aiuterà in questo lavoro di tutela dell'ambiente. Intanto sono state ripulite dai rifiuti anche le grotte di Santa Croce, dove è stato rilevato materiale di ogni genere abbandonato in maniera indiscriminata nel sito di grande pregio storico. Passiamo questa volta alla cronaca, dove a seguito di controlli eseguiti nei giorni scorsi su segnalazione di cittadini del luogo, le guardie dell'Ampana, in località calata dei Vaccari, a Monte San Giacomo, lungo un sentiero escursionistico del parco dell'alta via del Cervati e degli Alburni, hanno riscontrato una notevole quantità di lastre di amianto abbandonato lungo la strada che porta al sentiero escursionistico. Il responsabile regionale, Vincenzo Senatore, ha detto che queste lastre erano rotte in varie parti, per cui potrebbero rilasciare nell'area polveri sottili pericolose per l'uomo. Il responsabile ha poi informato infine l'autorità giudiziaria competente, cioè la procura di Lago Negro, il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, e il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Lo scorso fine settimana, invece, in Valdagri, c'è stato un incontro a cui ha preso parte il ministro Sergio Costa, con al centro il tema dell'ambiente e della salute pubblica. C'era anche una delegazione del comune di Sanza, che ha avuto modo così di interagire con il ministro e strappargli la promessa di una visita sul Monte Cervati. Sentiamo il servizio. Lo scorso fine settimana si è tenuta a Vigiano la presentazione del Decalogo contro gli incendi, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e coordinato dalla giornalista di origini lucane, Carmela Sorella. Un incontro nel quale sono stati affrontati problemi legati all'ambiente e alla salute pubblica della Valdagri, alla presenza di diverse associazioni ambientaliste e del ministro dell'ambiente Sergio Costa. A Vigiano c'era anche una delegazione del comune di Sanza, guidata dal consigliere Antonio Citera, che ha approfittato dell'occasione per sottoporre al ministro Costa la necessità di rilanciare il Monte Cervati. Citera ha chiesto espressamente che vi sia maggiore attenzione per il cuore del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni e soprattutto per quella che è la vetta più alta della Campania. Ho invitato il ministro a visitare il Cervati, afferma il consigliere Citera. Sarà quella l'occasione per evidenziare la necessità di superare le normative che ostacolano in modo repressivo il rilancio dell'area protetta, che, conclude Citera, ha purtroppo ingessato per troppi anni l'economia e lo sviluppo locale. Nel corso dell'incontro il ministro Costa, che si è dimostrato disponibile ad ascoltare tutte le voci presenti, ha accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Sanza a recarsi sul Cervati. La visita sarà organizzata con i vertici dell'ente parco. Quello che ci preme, dichiara il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, è far comprendere che lo sviluppo sostenibile del Cervati si sposa con la necessità della tutela ambientale e paesaggistica dell'area. Tuttavia, non possiamo non evidenziare che ad oggi, in aree anche molto frequentate da escursionisti e visitatori, manca la copertura telefonica, necessaria in caso di emergenze. Occorre, e a questo stiamo lavorando, rendere percorribile la strada che porta in vetta per garantire all'occorrenza una transitabilità agevole ai mezzi di soccorso. Un accesso controllato certamente, che non porti alla rottura degli equilibri ambientali ed ecologici, ma una strada fruibile, certamente. Questo chiediamo e il concludo Esposito su questo stiamo lavorando. L'amore per il territorio ha portato Ivan Bruno e sua moglie a dedicarsi allo studio della natura che li circonda. Da lì è nata la loro attività, che sta portando importanti frutti anche a livello nazionale, suscitando anche un grande interesse. Le numerose piante spontanee che crescono nel territorio, ed in particolare ai piedi dei monti della Maddalena, secondo attendi studi e ricerche, offrono anche importanti risultati nell'ambito della Cosmesi. Nasce così la loro azienda, il Pettirosso, per la produzione di numerosi prodotti per la cura del corpo, del viso e prodotti specifici per i bimbi, tutti naturali e tutti poi derivati da piante che crescono naturalmente nel territorio a sud di Salerno, e quindi nei dintorni della loro abitazione, i cui nettari vengono estratti al momento stesso in cui vengono raccolti, così da non perdere tutti gli effetti benefici, riuscendo ad estrarre interamente poi la freschezza e tutti i principi attivi contenuti nelle piante. Ecco perché il loro laboratorio è stato realizzato nel bel mezzo della natura, che poi anche il loro angolo di studio. Un lavoro importante che è anche un grande segnale per chi ama il territorio e per chi non vuole andarsene, consapevoli delle tante possibilità poi che la natura offre. Abbiamo ascoltato a tal proposito Ivan Bruno, che parla dei loro prodotti realizzati interamente da piante spontanee e senza alcuna aggiunta di agenti chimici e farmacologici, ma altamente specifici. Sentiamo. Noi abbiamo questa azienda che si chiama il Pettirosso Cosmetici, che è a Sala Consilina, che è a Sala Consilina e propone una linea di fitocosmetici a base di piante officinali e aromatiche del territorio. Pertanto noi raccogliamo esclusivamente piante che raccogliamo appunto sui mondi della Maddalena, sulle nostre montagne. Abbiamo capito la necessità di utilizzare prodotti più naturali, sia per l'alimentazione, ma poi mano a mano anche per la cura del corpo. E da qui è iniziato un po' uno studio su quello che erano i prodotti cosmetici, che comunemente si utilizzano quotidianamente, quindi a partire dai saponi, alle creme, i dentifrici, insomma tutti i tipi di prodotti, e verificando che spesso nei cosmetici cosiddetti convenzionali ci sono diverse sostanze comunque di origine petrolifera o piuttosto chimica, di sintesi, eccetera, che a lungo andare possono dare sensibilità o comunque creare problemi di pelle, eccetera. Pertanto da qui l'idea di proporre una linea di cosmetici naturali, completamente vegetali e senza nessun tipo di sostanza chimica nelle formulazioni. Sì, siamo in realtà al lato della montagna di San Michele, lì abbiamo appunto questa proprietà in montagna dove c'è la sede produttiva, raccogliamo le piante e dopo pochi minuti siamo già in laboratorio per la prima trasformazione. Questo ovviamente mantiene meglio e tutela meglio tutti i principi attivi delle piante che restano poi nel prodotto finito. Noi siamo una delle poche aziende in Italia che facciamo direttamente l'estrazione dei principi attivi e poi lo sviluppo della linea cosmetica perché generalmente i produttori di cosmetici acquistano gli estratti botanici da altre aziende specializzate e poi fanno la loro linea. Invece noi cerchiamo di gestire tutta la filiera, quindi a partire dalle piante fino al prodotto finito. In questo periodo stiamo raccogliendo l'iperico, l'erba di San Giovanni cosiddetta e l'iperico appunto è questa pianta dai caratteristici fiori gialli una pianta potentissima dal punto di vista del potere cicatrizzante e rigenerante cutaneo. Da questa pianta si ottiene un olio, l'olio di iperico appunto, che ha un colore particolarissimo perché è rosso rubino perché appunto la pianta contiene all'interno questa sostanza che è l'ipericina che è la sostanza che poi dà il potere cicatrizzante e rigenerante che dona all'olio questo colore rosso intenso. Noi abbiamo diversi punti vendita nel Vallo di Diano, ovviamente anche fuori, lavoriamo molto anche con il centro nord e i prodotti si possono acquistare direttamente da noi online sul nostro sito che è www.ilpettilossocosmetici.it Domenica scorsa invece a Salerno si è tenuta l'inaugurazione dei nuovi pontili galleggianti realizzati per la Lega Navale Italiana sezione di Salerno. La riqualificazione della infrastruttura è stata resa possibile anche grazie al supporto della Banca Montepruno. Sentiamo. Nuovi pontili al porto di Salerno per la locale sezione della Lega Navale Italiana. Domenica scorsa l'inaugurazione dei nuovi pontili galleggianti per potenziare il tracco di imbarcazioni e un maggiore accesso quindi alla città di Salerno. Un progetto che è stato realizzato grazie alla partecipazione e alla collaborazione della Banca Montepruno rappresentata alla cerimonia di inaugurazione dal Vicepresidente Antonio Cinello e dal responsabile della Segreteria di Direzione Generale Antonio Mastrandrea. E' questo un'ulteriore dimostrazione di vicinanza della Banca Montepruno alla città capoluogo di provincia che così come è nello spirito operativo dell'Istituto di Credito reinveste sui territori su cui opera in un'ottica di crescita condivisa e comune. Con il contributo offerto dalla Banca Montepruno al porto di Salerno, migliorando i punti di attracco alle spalle di Piazza della Concordia per le imbarcazioni che raggiungono Salerno, si cerca di stimolare l'arrivo di visitatori che avranno la certezza di poter usufruire di servizi e strutture di qualità. Per il Presidente della sezione di Salerno della Lega Navale Italiana, Fabrizio Marotta, la riqualificazione dei pontili e di conseguenza dell'area è di enorme importanza non soltanto per i soci ma per tutta la nautica salernitana. Un progetto la cui realizzazione, come spiegato dallo stesso Marotta, è stata possibile solo grazie al contributo della Banca Montepruno che ha voluto ringraziare pubblicamente. Questo fine settimana, ha dichiarato invece il Direttore Generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, contraddistingue quello che è il nostro impegno su tutto il territorio di competenza, non dimenticando le nostre origini e stringendo la mano alle nuove zone di competenza come Salerno. L'importante inaugurazione di domenica presso la Lega Navale Italiana, sezione di Salerno, dei pontili galleggianti, sintetizza l'impegno della nostra struttura per la crescita del territorio e degli enti che operano su di esso con passione ed attenzione. E' partita l'edizione 2018 di Asle in Natura, la salute arriva dell'Asle di Salerno. Il progetto prevede la istituzione di punti di soccorso e sorveglianza balneare nelle spiagge più popolari di alcuni comuni costieri afferenti al territorio provinciale. In tali località, nel periodo che vada il 6 luglio al 31 agosto, saranno attivate delle postazioni con la presenza di personale soccorritore, dotato anche di defibrillatore, per fornire assistenza, primo soccorso, orientamento e chiamata, se necessario, del servizio 118. Tali punti di soccorso saranno poi operativi nella fascia oraria dalle 9 alle 18. Il progetto è stato realizzato grazie ad un'intesa programmatica con i sindaci dei comuni costieri interessati, assieme ai quali è stato definito poi il percorso di programmazione delle azioni integrate. I comuni coinvolti sono Salerno, Agropoli, Ascea, Battipaglia, Camerota, Capaccio, Centola, Eboli, Spani, Maiori e Minori, Pisciotta, Pollica, Positano, Praiano, San Giovanni Appiro, Santa Marina, Sapri e Bibonati. Questa era la nostra ultima notizia della prima parte del telegiornale di Uno News, ritorniamo subito dopo la pubblicità con la seconda parte e con tutte le altre notizie. Ben ritrovati alla seconda parte del telegiornale di Uno News. Oggi scade il pagamento della tassi a Sala Consilina e i commercianti non ci stanno a pagare una bolletta aumentata anche del 40%. Il settore è già in crisi, afferma Gerardo Giordano, il presidente dell'Associazione Commercianti del centro di Sala Consilina Assocom. Stiamo valutando una serie di ipotesi per affrontare la questione. Sentiamo. I commercianti dell'Associazione Io Centro Assocom si sono riuniti nell'aula consigliare del comune di Sala Consilina per discutere dell'aumento della tassi in bolletta. Una decisione amministrativa che ha fatto storcere il naso alla categoria, che già si sente sotto pressione e che vive quotidianamente diverse problematiche. Il presidente Gerardo Giordano ha raccolto varie proposte nel corso della serata per gestire malumori che serpeggiano in tutto il territorio salese. Tra queste la eventualità di una serata e una manifestazione di protesta sotto la Casa Comunale. Idee tutte da vagliare nel corso di queste ore. Noi siamo felici dell'iscontro che abbiamo avuto questa sera con questa riunione. Infatti abbiamo visto molti colleghi che sono venuti, si sono avvicinati, anche perché il problema non era solo nostro e in primis, ma è di tutti quanti. Giustamente non possiamo trovare noi la soluzione, ma la soluzione è di chi ci amministra. Deve essere trovata da loro. Noi possiamo solo riscontrare il fatto che c'è stato questo momento, che noi non è che non vogliamo accettare e che nello stesso tempo vogliamo capire soltanto il perché è stato indirizzato verso le attività commerciali. Quando spalmandolo poteva essere meno sentito sulle nostre spalle. Giustamente il sindaco ci ha detto più volte che già le case a sala consiglina sono abbastanza alte come costo, quindi ci ha parlato che ha allineato i costi di sala consiglina a quelli degli altri paesi del Valo di Diano. Noi come associazione ci siamo un attimo sentiti, toccati, perché giustamente noi sono nove mesi che combattiamo per far riaprire l'attività commerciale a sala consiglina e per tenere aperte quelle che ancora ci sono. Quindi aspettavamo un segnale diverso nei nostri riguardi. All'incontro hanno preso parte tanti esercenti che in questi giorni stanno facendo i conti con una tariffa aumentata anche del 40%. Mentre il sindaco Francesco Cavallone continua a ribadire l'allineamento con le tariffe che si registrano in tutto il Valo di Diano, tranneate in Alucana e di attendere l'affidamento del servizio dopo l'espletamento completo della gara d'appalto. L'aumento della tasi è stato già approvato in bilancio comunale, dice, e pertanto non si può procedere diversamente. I commercianti salesi intanto continuano a ribadire il loro disappunto. Ci siamo visti arrivare queste bollette con aumenti spropositati. Partiamo dal 20, 30, 40%, 43%, quindi un aumento abbastanza consistente. Questa sera abbiamo raccolto varie ipotesi per risolvere questo problema e quindi nei prossimi giorni cercheremo una risoluzione. Stiamo vagliando varie soluzioni per cercare di risolvere, però a noi non sembra giusto semplicemente il fatto che il 50% dei negozi a sala consiglia non hanno chiuso, ci sono il 50% delle saracinesche già abbassate e proprio i commercianti aumentano il 40%. Questa a noi sembra un'ingiustizia, semplicemente questo vogliamo chiedere al sindaco. Fra noi commercianti c'è un po' di malcontento perché giustamente l'ultima tassa sulla nettezza urbana, diciamo, sulla Tari, è arrivata un po' alta con un aumento circa del 40%. Io personalmente ho ricevuto un aumento circa del 36-37%. Questa è una cosa che ci fa male, anche perché possiamo dire che i nostri locali sono dei veri attrezzi di lavoro. Noi come facciamo a lavorare nelle nostre attività se non avremmo il locale dove tenere la merce, dove operare con le nostre attività? Quindi vorremmo capire giustamente come mai c'è stato questo aumento e perché proprio noi commercianti, che siamo già in difficoltà per andare avanti, abbiamo delle grosse difficoltà. Festa dedicata alla conoscenza del Monte Cervati per i ragazzi dell'Associazione Montepruno Giovani, presieduta da Antonio Mastrandrea, che sabato scorso sono stati protagonisti, così di una seconda giornata escursionistica. Sentiamo. La vetta del Monte Cervati è sempre più punto di riferimento per i ragazzi dell'Associazione Montepruno Giovani, che dopo una prima escursione del 17 giugno scorso, sono tornati a trascorrere ore piacevoli e divertenti in mezzo alla natura, godendo dei panorami unici che la cima più alta della campagna può offrire. Sabato scorso, infatti, folta partecipazione al secondo appuntamento escursionistico promosso dall'Associazione presieduta da Antonio Mastrandrea, puntando sempre più ad una valorizzazione del Monte Cervati, che può essere considerato un simbolo importante per la crescita del territorio. Resta però la necessità di essere consapevoli del suo valore e delle sue bellezze. Da qui la volontà del direttivo dell'Associazione per far sì che sempre più giovani possano conoscere le bellezze della natura custodita dal Cervati e da questa consapevolezza creare anche i giusti stimoli per essere custodi e avviare iniziative di valorizzazione. Per il Presidente dell'Associazione Montepruno Giovani, le escursioni, oltre ad essere un momento per vivere la natura e allontanarsi dalla quotidianità, sono anche proficuo momento per socializzare e confrontarsi su ciò che vedono e su ciò che vivono. Religiosità e gastronomia locale sono stati i punti fermi della giornata vissuta dai ragazzi che con il Presidente Antonio Mastrandrea sono stati in visita presso la Cappella della Madonna della Neve in un luogo dominato dalla tradizione e dalla fede e da bellissimi e suggestivi paesaggi. Pranzo speciale poi presso il rifugio Casa Rosalia ubicata nel comune di Piaggine grazie al supporto dell'Osteria La Piazzetta di Valle dell'Angelo. La giornata iniziata con la partenza da Piazza Vittorio Veneto di Piaggine si è conclusa a Valle dell'Angelo dove i ragazzi sono stati raggiunti dal Vice Direttore della Banca Montepruno Cono Federico per il taglio della torta presso l'Osteria La Piazzetta. I nostri giovani, ha commentato il Direttore Generale Michele Albanese, stanno conducendo un percorso di cui andiamo veramente fieri sia per l'aggregazione che stanno creando tra di loro mettendo al centro il territorio sia per i principi che riescono a promuovere. Sono diversi i progetti di accoglienza integrata messi in piedi negli SPRAR del Vallo di Riano. Molti riguardano i minori stranieri non accompagnati sono infatti in corso attività a Padula e Atena Lucana ma non solo. Sentiamo il servizio. I minori stranieri non accompagnati degli SPRAR che insistono sul territorio del Vallo di Riano gestiti dalle cooperative Il Sentiero, Terzio Millennium e l'Opera di un altro, sono impegnati in diversi lavori che rientrano nei cosiddetti progetti di accoglienza integrata. Sei minori non accompagnati dello SPRAR di Padula stanno restaurando il portone della Casa Museo Gio Petrosino. L'attività in cui i giovani si stanno cimentando rientra tra quelle del laboratorio Bottega dell'Arte Restauriamo a Colori. coordinati dal responsabile, il restauratore Massimiliano Pignate i ragazzi nei mesi scorsi hanno seguito un vero e proprio corso sulla materia e ora stanno mettendo in pratica ciò che hanno imparato. La scelta del portone della Casa Museo Gio Petrosino è simbolica ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Padula, Filomena Chiappardo. Il museo è patrimonio di Padula e questo diventa un gesto di integrazione e partecipazione alla vita sociale della comunità. Gio Petrosino è simbolo dell'emigrazione sana e l'italiano simbolo mondiale della lotta alla mafia, un insegnamento per tutti. Anche ad Atena Lucana da qualche settimana altri ragazzi sono all'opera nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli con il restauro del portone e a breve inizieranno attività anche nei comuni di Polla, Montesano e Sassano. Con tali progetti, dicono dalle cooperative che li coordinano, si mira l'inclusione sociale dei beneficiari con corsi per la formazione professionale e l'apprendimento della lingua italiana, l'attivazione dei tirocini formativi, la realizzazione di attività di accompagnamento sociale finalizzate alla conoscenza del territorio. Sul batterio Listeria, relativo ai cibi e alle loro culture, una questione che sta tenendo banco in tutta Italia, interviene però nel Vallo di Diano il medico veterinario Rocco Panetta, che è specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Più attenzioni ai frigoriferi ambulanti, dice. Sentiamo. Il batterio Listeria monocitogenes non sopravvive solo nei surgelati di origine vegetale, la cui successiva cottura ad una temperatura di almeno 65 gradi centigradi per alcuni minuti ne determina la morte, impedendo l'estaurarsi di una tossinfezione alimentare nel consumatore. Questo batterio sopravvive in prodotti alimentari di origine animale, come yogurt, formaggi, quelli a pasta molle, altri prodotti lattiero-casiari non sterilizzati, che vengono consumati senza successiva cottura. Se questi alimenti vengono conservati ad una temperatura superiore a più 4 gradi, bastano più 5 gradi per la loro sopravvivenza. È quanto afferma il dottor Rocco Panetta, dirigente veterinario Asla Salerno. Una questione che sta tenendo banco da qualche giorno anche in Italia, e Panetta, specialista in ispezione degli alimenti di origine animale, spiega che questo dato scientifico, riportato anche nelle istruzioni per i consumatori dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, diventa fondamentale per garantire su questi prodotti durante il loro trasporto nella fase di distribuzione al dettaglio, effettuata con furgoni frigoriferi o refrigerati, con attestazioni ATP appartenenti alle classi A o B o C. I problemi sorgono quando questi furgoni riportano sull'attestazione ATP la dicitura gruppo frigorifero non autonomo, continua Panetta. Quando il conducente spegne il motore del veicolo durante la sosta per scaricare gli alimenti refrigerati, congelati, surgelati, per la distribuzione al dettaglio, si spegne anche il gruppo frigorifero. Occorre prendere provvedimenti legislativi nei confronti di questi frigoriferi ambulanti che si spengono più volte al giorno termina. Una soluzione sarebbe un decreto che imponga a tutti i veicoli classificati ATP con gruppo frigorifero non autonomo il montaggio e il funzionamento di termometri registratori. È necessario estendere i controlli programmati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.